ciao ragazzi e benvenuti al parchiato del tagliagole oggi ragazzi presentazione di due prodotti olight rubato due ragazzi coltellino lama sheet food da vedere assolutamente insieme e la warrior mini 2 torcia tattica ragazzi veramente performante andiamo a vederli insieme eccoci qui ragazzi pronti a questa presentazione di questi prodotti olight ragazzi ringrazio prima di tutto olight per avermi mandati prodotti accoppiata di prodotti in offerta proprio oggi che esce la recensione ragazzi non è un test è una presentazione di prodotti che mi sono stati mandati la torcia l'abbiamo usicchiata poi vi faccio vedere quindi qualche prova in notturna per il resto è una presentazione ragazzi partiamo dal coltello partiamo dal coltello eccolo qui ragazzi rubato due confezione anche qui ragazzi tanto di cappello confezioni eleganti davvero un bel packaging di olight su questa cosa assolutamente un applauso rubato due che si veste con queste guancette in carbon fiber overlay che adesso andiamo a vedere da vicino ovviamente voi volete vedere il coltello non volete vedere la scatola ragazzi aspettate che vediamo di tirarla fuori eccola qua eccola qua che arriva ragazzi ripeto packaging di olight tanta roba tanta 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 roba togliamo questo qua abbiamo i ringraziamenti le cose ecco qua ragazzi lo avevo già tirato fuori ovviamente quando lo tirate fuori voi è in questa posizione quindi avete la poch con la scritta o knife ovviamente in sovraimpressione ve la beccate davanti qua sotto abbiamo tanta roba anche qua ragazzi abbiamo il pannetto che secondo me è sempre utile vediamo se riusciamo a prenderlo con le mie ditone eccolo qua pannetto e che lasciamo dentro e le istruzioni del coltello qua vi descrive un minimo il coltello eccole qua ragazzi poi ve le guardate voi queste ve le guardate voi parliamo del coltello fatemi spostare tutte le scatolette e le mettiamo qua eccola qui ragazzi la poch con il loghino o knife ricamato poch in nylon andiamo a vedere dentro ovviamente abbiamo il coltello ragazzi e un bel regalino una sorpresina qua nella taschina apposita che vi faccio vedere dopo solo se fate i bravi solo se fate i bravi andiamo a vedere il coltello ragazzi che merita 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 eccolo qua io ovviamente l'avevo già visto ragazzi realizzato veramente bene realizzato veramente bene cura dei dettagli ragazzi è fatto bene ma la cosa più importante ragazzi ditela a voi una delle cose più importanti su un chiudibile è la centratura della lama ecco beccatevi sta centratura ragazzi perfetta diciamolo in coro perfetta tantissima roba movimento di apertura fluidissimo ragazzi ma veramente fluidissimo dovete provarlo è fluidissimo ci state a giocare tutto il giorno perché è stra fluido sembra addirittura assistito da quanto è fluido in realtà non è assistito è su cuscinetti a sfera ragazzi però viaggia alla velocità della luce davvero tanta roba ovviamente altro test che dobbiamo fare importante col nostro blocco notes con i foglietti super super sottili ragazzi è l'affilatura di fabbrica affilatura di fabbrica cosa vogliamo dirgli ragazzi affilatura di fabbrica siamo alla perfezione rasoietto come piace a me di fabbrica è veramente tanta roba ragazzi quindi centratura lama ottima affilatura di fabbrica ottimo movimento fluidissimo ragazzi è veramente un bel pezzo questo rubato 2 vi do due misure del coltello ragazzi il coltello nella sua interezza misura 18.1 e a questa lama ship foot ragazzi che a me piace di brutto soprattutto in magazzino ragazzi riuscite ad utilizzare la puntina per fare tutti i lavori tanta roba lama ship foot di 7.4 centimetri su uno spessore di 3 mm con un bel jimping generoso ragazzi bello lungo avete una bella presa sul coltello ok davvero una bella presa cartelle in acciaio alleggerite eccole lì che le vediamo ragazzi eccole lì con i loro bei fori cartellina acciaio con queste guancette in carbon fiber overlay ragazzi dal video mi sa che non riesco a farvi vedere quanto su belle ste guancette ragazzi belle 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 ragazzi belle belle movimento ragazzi ripeto qui ci state a giocare veramente tutto il giorno siamo siamo la super fluidità super 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 fluido ragazzi super fluido davvero tantissima roba tantissima roba il movimento complimenti lama in 154 cm ragazzi perché non è il solito acciaio economico è un 154 cm uno degli inox tra i miei preferiti ragazzi tiene bene il filo una filatura che dura ragazzi il giusto quindi un buon tagliente lo riaffilate tranquillamente facile da riaffilare ragazzi ottima resistenza alla corrosione in più la lama a questo questa finitura blackstone wash it che è veramente bella ragazzi veramente veramente bella abbiamo il doppio tasto per l'apertura destrorsi o mancini ragazzi andiamo via tranquillamente la clip è posizionabile nelle due posizioni avete il foro per il laccetto ragazzi un bel prodottino se lo provate poi fatemi sapere perché io così fluidi così fluidi nel movimento ne ho trovati pochi ok cuscinetti a sfera però qui siamo veramente davanti a un pezzo che viaggia alla fluidità della luce ragazzi vi rifaccio vedere un attimino queste guancette bella ragazzi ragazzi un bel prodottino ancora centratura lama perfetta queste cose mi interessano centratura lama velocità fluidità d'apertura un ottimo acciaio tagliente di fabbrica perfetto cosa volete di più non lo so e invece lo so cosa volete di più perché voi siete dei viziosi e quindi non vi basta il coltello e volete di più qualcosina ok andiamo a prendere questo qualcosina che non ho ancora aperto e sigillato perciò lo apriamo con voi ragazzi lo apriamo direttamente con voi se riusciamo ad aprirlo vediamo e se no abbiamo il nostro coltello ma non vorrei non vorrei rovinarlo non vorrei rompere la plastichina mi sa che ci tocca era farlo perché non riesco a prenderla l'ho presa adesso passiamo mezzo video così vabbè ragazzi la tagliamo la tagliamo e siamo tutti contenti eccola qua abbiamo il coltello utilizziamolo eccolo qui ragazzi abbiamo il dobloncione eccolo qua ragazzi io so che voi per ste cose ci andate matti io lo so lo so che ci andate matti per ste cose o knife eccolo qua ragazzi spettacolo il dobloncione per andare sugli autoscontri tutta la vita gratis con l'amorosa ragazzi questo è il regalo la sorpresa che avete con il coltello tanta roba tanta tanta roba ragazzi rubato 2 dobloncione e si va a comandare sugli autoscontri ragazzi passiamo alla torcia eccola qua o light warrior mini 2 andiamo subito a vedere torcia tattica ovviamente ma questo lo vedete andiamo subito a vedere un pochino di specifiche che vi lascio che qua in sovraimpressione così potete fare un bello screenshot e poi guardarvele abbiamo la funzione turbo 1750 lumens ragazzi tanta roba tanta tanta roba funziona alta 500 poi ovviamente le potenze vanno a decrescere per proteggere anche la torcia da sul riscaldamento e ragazzi per farvi durare di più la batteria la media 120 che secondo me ragazzi media 120 19 ore ragazzi 57 metri secondo me è quella che nel bosco usate di più in assoluto veramente in assoluto la bassa sono 15 lumens dura 164 ore ragazzi mostruosa e poi avete la moon che è praticamente la lucciolina quella piccolina piccolina che dura 45 giorni ragazzi 45 giorni poi vabbè le solite cose la torcia può cadere da due metri e passa senza da un metro e mezzo senza rompersi a un fascio massimo di 220 metri ragazzi con la col turbo come vedete 220 metri ipx8 potete immergerla nell'acqua che non gli fa nulla per due metri ragazzi poi abbiamo la lunghezza che è 118 millimetri 25 millimetri il diametro e un peso di 122 grammi ragazzi ma voi non ve ne frega nulla delle specifiche andiamo a vedere direttamente la torcia eccola qua eccola qua vi ricordo che è una presentazione ragazzi avete questo vi dice che praticamente prima di utilizzare la torcia dovete aprirla e levare la protezione che c'è per non far fare contatto alla batteria leviamolo leviamolo togliamo tutte le cosine che abbiamo dentro eccole qua questa qua è la protezione che c'era dentro ovviamente ecco qua allora qua abbiamo la nostra torcia che vediamo un attimino dopo qui abbiamo il cavo di ricarica come sapete benissimo o light cavo di ricarica magnetico abbiamo il cordino da mettere al polso ragazzi eccolo qua in gommina carino che si stringe si allarga come volete abbiamo dentro anche questo vediamo se questo si apre sì questo si apre ok che è un moschettoncino per attaccarvi la vostra torcia adesso vi faccio vedere tiriamo fuori la torcia qui avete l'anellino ok col moschettone eccolo qua la potete attaccare tranquillamente alla vesta allo zaino allo spallaccio dove volete quindi moschettoncino molto utile secondo me molto molto utile ovviamente non è per andare a scalare penso sia scritto eccolo qua no for climbing voglio proprio vedere chi si mette a scalare con sto coso però lo devono scrivere ragazzi la torcia è veramente bella veramente veramente bella tra l'altro quello lì nero che vedete è un è un sensore di prossimità cosa fa se voi avete acceso la torcia quando si accorge che ha vicino un oggetto il fascio luminoso si abbassa in automatico questa cosa vi permette di non accecarvi se puntate la torcia vicinissimo a voi che vi abbaglia per ritorno per riverbero praticamente e soprattutto se l'avete nello zaino e per caso anche se la torcia è dotata di blocco che è una cosa che apprezzo e se per caso vi si accende per sbaglio nello zaino il sensore di prossimità abbassa la luminosità così non vi si incendia la borsa e siete tutti 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 contenti eccola lì warrior mini 2 ragazzi corpo in alluminio tanta roba in mano questo grip della torcia è fantastico veramente veramente fantastico ragazzi un grip esagerato avete due tasti il tasto sul retro e il tasto principale il tasto principale che ha quando la torcia è accesa 4 colorazioni la verde che è praticamente la torcia da 100 a 60 per cento di ricarica è led verde poi diventa arancione dal 60 per cento al 10 per cento diventa rossa dal 10 al 5 per cento inizia a lampeggiare rosso quando scende sotto il 5 per cento sposto un po di roba perché se no non mi va a fuoco ragazzi unboxing multiplo su un mare di roba spostiamo tutto spostiamo tutto è rimasto dentro questo spostiamo anche lui spostiamo questo ok abbiamo spostato tutto ragazzi la torcia è veramente bella poi vi faccio vedere anche le prove che abbiamo fatto in esterna secondo me merita un casino luminosissima una luminosità veramente tanta roba batteria interna una 18 650 3500 mAh ragazzi potenza massima l'abbiamo vista prima 1750 in funzione turbo l'interruttore posteriore ragazzi è configurabile in due modi di fabbrica quindi due configurazioni preimpostate dalla fabbrica la prima configurazione un leggero clic accendete la potenza media schiacciate fino in fondo e accendete il turbo nella seconda configurazione di fabbrica selezionabile ovviamente potete selezionare le due configurazioni diverse un leggero clic accendete il turbo schiacciate fino in fondo e accendete lo strobo ragazzi la torcia anche un sistema di blocco ragazzi clip una bella clip potete attaccarla in mille modi ovviamente la potete attaccare dove volete avete anche il moschettoncino per attaccarvela in cintura allo zaino ragazzi un prodotto di qualità veramente un prodotto di qualità è tanta roba ci sono anche dei crash test su questa torcia nel sul web sul tubo se andate a vederli una torcia veramente veramente indistruttibile ragazzi ci passano sopra con la macchina ci passano sopra con la macchina la tirano la mettono nel freezer la fanno congelare ragazzi è una torcia indistruttibile adesso vi faccio vedere le prove corte ragazzi perché ovviamente è una presentazione che abbiamo fatto nel bosco per farvi vedere quanto quanto maledettamente è luminosa questa torcia via eccoci qui ragazzi vi faccio vedere il funzionamento della nostra warrior mini 2 mare di luce mare di luce qua siamo a potenza media ragazzi potenza media tanta roba tanta tanta roba ragazzi tanta roba andiamo un pezzettino avanti sul sentiero ragazzi adesso la mettiamo anche a potenza alta però cioè è veramente tantissima luce ragazzi è tantissima luce praticamente la potenza massima non vi serve per camminare tranquillamente nel bosco fate veramente tanta luce vi faccio vedere che siamo a buio pesto ecco così è come senza torcia ragazzi tanta roba saliamo ecco qua qua siamo a potenza massima ragazzi tanta roba tanta roba qua il dominiamo giù a valle eccolo lì ragazzi veramente potenza massima è tantissima questa qua è la potenza minima ok potenza minima col telefono non la percepite però si può camminare tranquillamente nel bosco vedendo dove si va diciamo che la potenza è la potenza migliore vedete faccio vedere anche di qua potenza media ragazzi secondo me è l'ideale per camminare tranquillamente nel bosco ma proprio tranquillamente poi volete mettere la massima salite a massima ragazzi però ripeto è veramente tanto è veramente tanto se poi mettiamo il turbo ragazzi turbo ciao turbo giorno turbo veramente giorno ragazzi giorno 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 tantissima roba guardate guardate giorno vero con due clic ritorniamo alla modalità media e andiamo avanti allora ragazzi così siamo a potenza minima diciamo che vi serve per camminare nel bosco va bene però secondo me la potenza media che è questa ragazzi potenza media è veramente tanta roba se poi mettiamo al massimo ragazzi dai al massimo è veramente giorno fate veramente giorno 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 mettiamo il turbo e col turbo ragazzi ciao proprio potenza pazzesca questa torcia veramente pazzesca ragazzi torniamo a potenza media e saliamo ragazzi ragazzi vi faccio vedere anche lo strobo eccolo qua ragazzi e si va come al solito a ballare con uno strobo potentissimo ragazzi veramente potentissimo come avete visto ragazzi luce veramente da far giorno ragazzi funzionamento della torcia è semplicissimo tenete schiacciato il tasto aumenta e diminuisce la luminosità due clic turbo tre clic strobo abbiamo i due interruttori vi li ho fatti vedere prima ragazzi secondo me è veramente un gran prodotto di qualità se andate matti per le torce questa la dovete avere ragazzi questa la dovete avere assolutamente non è finita ragazzi non è finita come non è finita ci hai già fatto vedere un pacco di roba non è finita attenzione attenzione perché questa è un regalo di olight ragazzi i3 e eos ve la faccio vedere ovviamente anche questa qua è già provata ragazzi dietro avete le sue istruzioni dovete levargli il cappuccino per la torre per la protezione della batteria ragazzi tanta roba spostiamo sono pieno di cartine e cartoni oggi eccola qua ragazzi piccolissima piccolissima è più piccola di un mignolo ragazzi il mio mignolino bellissimo avete la torcetta ancora più piccola si accende semplicemente ruotando il cap ragazzi eccola qua tantissima roba ragazzi piccolina vi ho fatto una prova nel bosco anche di questa che adesso andiamo a vedere perché vi faccio vedere quanto una torcettina così piccola da appendervi dove volete alle chiavi della macchina o anche alle vostre belle mutandine con i fiori ragazzi fa una luce esagerata andiamo a vedere la prova in esterna via ragazzi vi faccio anche vedere quanta luce fa questa torcina portachiave ragazzi davvero tanta roba è tanta roba guardate ok così è quello che si vede così è con la torcina ragazzi torcina portachiave potenza veramente ottima cioè attaccata alle chiavi della macchina ragazzi vi risolve qualsiasi situazione di buio tanta tanta roba eccoci qui ragazzi pacchetto completo di olight la nostra i3 e eos la nostra warrior mini 2 ragazzi eccola qua che ve la faccio rivedere in tutta la sua bellezza in tutta la sua bellezza tanta roba ragazzi tanta tanta roba e il nostro rubato 2 ragazzi che essendo ovviamente amante dei coltelli non posso che apprezzare ragazzi tutto quello che vi ho detto movimento spettacolare sembra addirittura assistito ottimo acciaio tagliente di fabbrica perfetto e soprattutto centratura da giù di testa ragazzi tanta 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 roba e in più per voi che siete dei viziosi degli autoscontri anche il super dobloncione come sorpresa in regalo con il coltello ragazzi sotto nella descrizione video vi metto tutti i link perché ragazzi questa accoppiata in questo giorno va via a un prezzo scontatissimo vi metto il link sotto vi ricordo che era una presentazione di prodotti olight che mi sono stati gentilmente mandati non era un test ragazzi andiamo alle conclusioni finali eccoci qui ragazzi con questa accoppiata vincente di olight rubato due ragazzi con guancette in carbon fiber overlay meccanismo di apertura super super fluido sembra quasi assistito lama in 154 cm affilatissimo di fabbrica ragazzi e soprattutto centratura lama perfetta tanta roba e warrior mini 2 ragazzi torcia tattica super super potente ragazzi è fatta veramente bene in mano a un grip eccezionale una cosa che non vi ho detto che ha il capo magnetico quindi potete tranquillamente attaccarla dove volete oppure recuperare attenzione alla i3 eos che è il regalo che vi fa olight ragazzi vi ricordo nella descrizione video sotto ci sono tutti i link per questa offerta straordinaria con il codice extra ragazzi pdt 15 il codice pdt 15 avete un extra sconto del 15 per cento tanta tanta roba grazie mille a olight ragazzi dal rubato 2 dalla warrior mini 2 al parcetto del tagliagole tutto buona giornata e ciao